salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale eccoci qui di nuovo con mass effect andromeda riprendiamo da dove ci siamo lasciati sono risalito sulla tempest perché perché direi di dare un'occhiata a quella che è la missione principale quindi dobbiamo prendere appunto tornare sul pianeta dove eravamo prima voeld per il momento lasciamolo qui però appena sono risalito callo mi ha detto che voleva parlare quindi vediamo che vuole ciao no 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 I had to train other pilots in hazardous flight techniques just to look for food and water. It's a cage that eats good ships and good people. Helios won't be home so long as it's a threat. It's a huge space anomaly. It's not going away in anyone's lifetime. If we could somehow neutralize it, or if our ships had defenses against it. Still, that's what we do, isn't it? Find a way where there is none. Just see the Nexus for proof of that. Ok, allora, allora. Noi al momento ci trasferiamo e proseguiamo comunque con la nostra missione principale. Dai, ogni tanto intervalliamo i nostri... I nostri... Le missioni secondarie con quelle principali. Quindi vediamo un pochino di tornare qui. Perché comunque mi sta, come detto, mi sta garbando questo Mass Effect. Quindi l'idea sarebbe quella comunque di fare, diciamo, più compiti secondari possibili. Poi magari vi di un po' a lungheti che ci stanno tanti e andiamo come se non ci fossero domani. Ci sta, ci sta. Saltiamo sto... Sì, visto che possiamo saltare questi spostamenti così, diciamo. Viaggio al museo... Ah, sì, qui c'era anche Pibi che voleva andare al museo. Sì, sì, sbarchiamo, sbarchiamo. Ah, tra l'altro, un'altra cosa, è uscita una patch che se non sbaglio va, me ne sono reso conto adesso, che va a migliorare in teoria le espressioni facciali e alcune cose del genere riguardanti appunto l'aspetto grafico. Ma va a modificare una cosa utile che è quella della capienza dell'inventario. Perché adesso ero andato un attimo in pausa e ho visto che il nostro spazio disponibile, cioè spazio totale, era 150. Ci ho pensato un pochino, ho detto ma veramente era 150 anche prima, no? Era tipo 65. Invece, vedete, limite oggetti 150, quindi la patch è di circa un giga e... nove, una cosa del genere. Comunque, tornando alla nostra mappa... Ehm... Che sto di raggiungere il museo? Vabbè, questo lo possiamo fare prima di andare con la... Principale. Andiamo a parlare con Pim... Riusciamo a farlo da qui, no? In realtà no, dobbiamo fare il giro. Ok, ci siamo, ci siamo. Eccoci. Ehm... Esaminiamo intanto? Ci dica, ci dica. Scusi. Ma che sta, briaga? Ci ha bevuto, ok? Certo. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va bene, allora ritorniamo dove eravamo prima e proseguiamo con la missione principale. Eccoci pronti, eccoci pronti. Aspetta. Questa, ok. Qualcos'altro da scansionare, no? Va bene. Andiamo. I haven't brought anyone here in over 20 years. There's always been an active display for Aya, but we could never affect it. Let's see what we can do. Sam? Sam? Yes, this is new. Is it similar to the vault on Eos? Tell me, what are you seeing? I think what we need to figure out is, what's different. Tell me, what do you see? The vaults, they're a network, as you discovered, however, they're not connected to each other, but to this place. This image was on a relic that the Archon showed me. He called it Meridian. And it looks like Aya's vault is the only one that's fully connected to it. And it's terraforming. Doing what it was meant to do. The vault on Eos is also present, but changed. Our interfacing with it has affected its connection. What do you think, Professor? I think that Meridian is the control center for all the vaults. Thank you. This is unbelievable. If we can get to Meridian, maybe we can turn everything on from there. Make Helius live. Wait, Ryder. The Archon knows where it is. He's already been there. What? Where? Meridian? Of course. That's why he tortured me. He thought I could help him use it. Because he can't. Meridian is my people's best chance for survival. We have to take it from him. Agreed. Such power in the hands of such evil could mean the end of your people. And mine. Allora, allora. Andiamo. Vai. Così. Di cuore, di cuore. Di cuore. I'm going to shut it down. For all our sakes. You're going to need that relic I saw. The Resistance might have intel on the whereabouts of Archon's ship. I'll talk to Ephra and secure his full cooperation. Meet me there. Ok, allora. Incontrati con Ephra. Al quartier generale della Resistenza. Che si trova. Si trova. Si trova. Ecco. A parte opposta. Ma scusate. Mi dovete fa... Fa tutti sti chilometri. Tra l'altro mi potevo spostare anche così. Vabbè. Si, si. Usiamo il viaggio rapido. Si. Anche all'interno della città. Se no qua... Ci mettiamo una vita. Prima me la sono fatta a piedi. Ma non mi sembra il caso. Quindi. Posso entrare qui. Un po' io. Si buono. Oh no. Scusa la verità del mio capto. Moschi, por favor. È la nostra sola route per l'Archon. Uno dei miei membriva il capto, un comandante di resistenza chiamato Ven Terev. L'Archon ha chiesto la comprensione di remnante tech, ma come va a ven betrayerla? Non lo so, è per questo che ho mantenuto tranquillamente. Sto lavorando per capto, farlo rispondere a quello che ha fatto. Tu sai dove è? Cadara Porte, i miei contatti stanno curando lui. Contatti? Non puoi confere a nessuno. Ci sono stati di scopo, i nostri. E ora sono stati regolati da esilisti, da tua galassia. Ven may know how to find the Archon, and his ship. Non possiamo lasciare questo a un paio di rinagati e dottori. Sono un po' più vicino a la galassia. Where did Ven go, exactly? Cadara Porte è un paio di rinagati. Questa è una minaccia bella e buona. Allora, allora. Questa è fatta, questa è fatta. Raggiungi cadara Porte nel sistema che ci andiamo a segnare. Perché altrimenti che operazioni prioritarie. No, ci sta, ci sta. Allora. Teletrasportiamoci di nuovo qui. Almeno. Risaliamo sulla Tempest. E proseguiamo appunto per, un pochino per la missione principale. Come detto, facciamo un pochino e un pochino. Aspettate che c'è una missione. Vabbè, almeno attiviamola questa missione che abbiamo qui, no? Vediamo che vuole. Questo? Scusi, è lei? No. O sta là dentro o si passa da qua dietro o non sta qua dentro. Posso passare da qui? Sì. Eravamo probabilmente più vicini dall'altro lato. Ci sta. Quando hai un momento, Pathfinder, questo è un grande honore. Devo expressare la mia ammiglia per tutto che hai fatto. Crossare la voce tra le galassie. Navigare la scurge per trovare Aya. Incredibile. Se le risultate stavano per noi, è sicuramente. Ma qui siamo. Strangere di diversi galassie conversando in amici. Extraordinary. Io sono Mariko D'Ares, il chief vonaeron. Scusi. Un vonaeron? È molto... Non lo so cosa. Ah, linguistica, non la mia fortuna. Sono un osservatore celestiale, chartando i movimenti delle stelle, delle planete e delle scurge. Ok, ok. Un astronomer. Svevi le riempie sicurezza da qui? Siamo dippoli satelliti che alerano noi a nuove risposte. e delle opportunità. Ma abbiamo perduto contatto con diversi osserveri. Sì, hanno semplicemente... stoppato. Ho sentito un vessel per scannare i loro ultimi locali, ma... niente ha stato trovato. Il tuo Tempest è molto avanzato. Ho spero che tu puoi aiutare la nostra scurge. Eh, vabbè, dai, segna, segna, intanto segno quando mi trovo. Perfetto, perfetto. Ok. Vabbè, come detto, magari quello lo facciamo... più avanti. Adesso però... torniamo comunque alla nostra Tempest e... andiamo a cadare a... eccoci. Sì. Grazie a tutti Grazie a tutti Per il centro di ricerca non credo che abbiamo accumulato Cioè un po' di punti ce li abbiamo Però me li stavo anche tenendo Se zammai No Grazie incrementi Vediamo Collegamento capsule Zero punti vabbè Le mail credo che potevamo controllarle Anche qui giusto Un momento Allora Non mi conosco Poi ci dobbiamo rimettere anche a chiacchierare un po' con il nostro team Ma al momento Andiamo Qui su Ammazza se stiamo distanti Sì 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 Tornando a noi Andiamo direttamente Al nostro obiettivo Andiamo Sì 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 Allora Allora Vabbè sì Non credo ci sia nient'altro da spipolare Buttiamoci qui Sì Sì Sbarchiamo Sì Incoming call Patching it through There's been a development regarding the spy venture rev. Rendezvous at Crawler's song. Your contact's codename is Shayna. Shayna Got it That's one hell of a welcome sign. Exiles have stepped up their game since their revolt. Exiles have stepped up their game since their revolt. All I see is the trail of bodies they left behind. Our suppliers waiting. Come on, we're gonna be late. Do I even want to know? Nope. Ok Eh Parla con me Ok Allora, momento, aspetta, fatemi vedere Tutto questo tempo ci vuole per aprire queste porte, scusate. Ok Che devo scannerizzare qua? Eeeh E piante? Non lo so Procediamo per il momento, poi vediamo. Allora, allora Questa 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 è una pesta male Eeeh Vabbè, noi andiamo Scusate, eh Non per noi L'Ongara 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 Non per noi L'Ongara 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 Attendiamo il contatto Hey Piss off You order You pay I said You look like you're waiting for someone Nada Not interested Salute e facciamo un po' Sì, non mi piace a te, non mi ha mai incontrato. Tu lavorai per l'initiative. Sloane era parte della scuola di Nexos. Penso che lei farà a Venn facilmente. Talvez lei accettere con un negozio. Potrebbe essere un altro modo per arrivare a Venn. Tu lavorai Sloane, parlare con la resistenza. Come ti contatto se le cose andano a Venn? Eh, devi pagare. Continuare il cambiamento. Sempre lo faccio. Com'è il resto? Perché non era preciso il lancio di monete. Comunque, a parte gente ubriaca, qui non so se ci siano eventuali altre missioni da attivare. Al momento sembra di no, perché di solito... Ci sono anche altri... Posso uscire da qui? Aspetta, aspetta, fatemi vedere magari è il cesso questo. No, no. È giusto. So, ci mettevo tutto sto tempo per entrare in bagno, quindi non mi sembra il caso. Ok. Sam. Tell me about Sloane Kelly. Before joining the initiative as head of Nexus Security, Miss Kelly served in the Alliance in the nearly spotless record. Nearly? She was involved in multiple altercations with other officers. A hothead. Great. Si può? Oh, stai calmo. Krogan sempre guardia del corpo, eh. Sottissimo. Si debete prendere delle nelle nostre flore. Si. Ehi – Si. 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 Si, se ne, sono un attenzione per il nostro portale. Che? Si. 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 a te. E non mi lie. Prendeteci me a dove stai guardando e non ci sarai mai problemi. Non. Non ci sarai mai. Percivalo ora! Tu prima. Percivalo. Sì, mi sa che siamo entrati un po' troppo spavaldi e aggressivi, eh. Poteva andare meglio. Esatto. Allora. Dobbiamo parlare. Scattatari, insomma, questi fanno troppi spiritosi, eh. C'è qualcosa da raccattare qua, no? Sembrava uno scatolo. Comunque, comunque, dopo che non ci siamo lasciati benissimo la tipa, vediamo se... Senta, noi le informazioni... Eh. Sì, lo so, sono andato un attimo... lungo di corsa. Ma... ...e che mi ha scattato. Eh. Non preoccuparti. Mi ha trovato un lavoro. Mi chiedere, c'è una città con le catture. Non c'è una nuova. Ricordatevi, Efra vuole a Ven alive, quindi quando ti arrivi, dà lui questo. Ci si tratta di tutto quello che Sloane ha preso. E non può essere tracciato da noi. Un agente di resistenza sarà chiesto per prendere Ven. Ben's intel better be worth it You'll be the judge of that, not me There's a maintenance shaft around the corner Sending the access code to your Omnitool That'll get you inside You should be able to handle the rest Aspè, che se no, scusi Vabbè, grazie per l'aiuto No, il cuoricino non mi sembrava il caso Literally in Ben's case Quando you're done, come to Tartarus Ah, ok, vabbè Sì, ma ci allarghiamo, un giovine Detto questo, detto questo Abbiamo il condotto di areazione Scusato, sbagliato Sbagliato ingresso Eh, che cazzo, ma non si ferma quando corre questo Allora, let's punch in the access code Looks like it leads to a stock room Sam, anyone up there? No heat signatures detected The room is clear to enter Eh, salve What do you want? The Archon's ship Where is it? This a new interrogation tactic? Sloane's getting lazy I'm not with Sloane Ephra sent me Answer my questions and I can get you back to the Resistance So I'm trading one cell for another? Then, you betrayed the Moshai You're lucky Ephra wants you at all For all his faults, the old man's not an executioner The Archon's ship, where is it? I never saw it Cut my orders from a Kett transponder But you could use its frequency to triangulate the Archon's location Do you still have it? I buried it before I was arrested Should still be outside the city This is your way out of here A Resistance contact will be waiting Don't you want to know why I did it? Why I betrayed the Moshai? Eh vabbè, facciamocelo di tanto per curiosità We're losing the war against the Kett And still, Ephra puts my brothers and sisters in danger To protect the useless old woman So you took things into your own hands I made the call he wouldn't The Archon only wanted the Moshai I thought if I gave her up I didn't know what the Kett were doing to my people You resent Ephra So the Archon used that against you If Ephra was a better leader It doesn't matter And I'll accept the consequences Okay Pathfinder, the communicator is buried outside the ceasefire zone I suggest bringing in a squad Vetra, Drak Are you back from Whatever it was you were doing? Yep Our completely legitimate business deal went off without a hitch Back Allora, prima di tutto usciamo qui Dopodiché ho visto che ci ha sbloccato un po' di compiti secondari qui O meglio, un po' di missioni da attivare Eventualmente, vabbè, sono un paio Comunque, comunque Ragazzi, io a questo punto direi di salutarci qui con questo episodio di Mass Effect Andromeda Magari non tutti, lunghissimi, facciamo se no non che la faccio tempisticamente Quindi ci vediamo con il prossimo episodio Proseguiremo qui con la missione principale Magari attiviamo le missioni di questi qui Ma che so stifisi sta cosa? C'è un meccanico qui vicino? Non lo so Ci vediamo comunque con il prossimo episodio Fatemi sapere la vostra Seguite anche sulla pagina Facebook e sul secondo canale E alla prossima allora Un saluto a tutti da Quel Taleale Grazie a tutti